Ma Castecchi, lancia una sfida a Luca Pagano. Luca, scusa? Luca Pagano. Luca Pagano, è un giornalista? Luca Pagano. Che cazzo è Luca Pagano? Luca... Max! Com'è scritto? Com'è scritto? Luca Pagano. Chi? Luca Pagano. Sarà un bloggero? Pagano. Pagano. Ma c'è Luca Pagano? No. Ma sarà Fasa, no? No, 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 ce l'ha più, ma hanno sbagliato. Sarà bacano. Sarà un bloggero. Baccano. È un giornalista. Vabbè, fermate le registrazioni, che ricercitiamo di capire chi cazzo è. Vabbè. Si rifà, dai, si rifà. Si rifà, adesso vediamo. Villuta, dann? Tu rifà. Non c'è, va insomma.